Dormo sull'erbo Amici di In Piazza ben ritrovati da Maria Alessandra e Valentina Non vi sveleremo subito per quale motivo abbiamo un cappello e dei baffi Sono molto carina Sì basta adesso togli Ok però per scoprirlo dovete guardarvi tutta la puntata di In Piazza Dall'inizio alla fine Buon divertimento Amici di In Piazza ve lo devo confessare io me la sento Qui con me il direttore artistico di Radio Bari Ciao Pasquale 33 che poi vorrei capire perché 33 Bella domanda questa Io possiamo riservarla dopo questa domanda Come no riserviamola dopo Allora parliamo di musica Lo facciamo perché appunto manca poco ad un gran finale del tour di Radio Bari Alla Fiera del Levante Come è andata innanzitutto questa esperienza? Beh devo dire che quest'estate non è stata eccellente Nel senso che abbiamo trovato pioggia, vento La prima data è saltata per problemi appunti legati ai temporali ma sono saltate tutte le mani La bufera c'era La bufera Per cui abbiamo rinviato la data di Toramare e ci è rimasta Cioè siamo partiti come prima data quella di Santo Spirito E anche quel giorno è stato freddissimo, vento di tramontana E diciamo che abbiamo trattenuto la gente che era in piazza Non abbiamo avuto quell'incremento di richiamo che è stato quello della campagna pubblicitaria Devo dire che poi abbiamo avuto la grande soddisfazione a Torreammare Dove abbiamo avuto oltre 6.000 persone alla piazzera gremita E sono felicissimo Il segreto di questo successo? Ma io credo che Ingredienti se vogliamo Tutti e due Io credo che abbiamo tanta gente capace, artisti a carattere locale Che sono veramente in grado di mantenere un palco E di tenere uno show, cioè far divertire la gente Ce l'ha dimostrato la gente che è rimasta vicino al palco Cioè non era lì per caso, era interessata allo show Che è durato due ore Per cui evidentemente abbiamo artisti poco pubblicizzati Magari molto riconosciuti all'estero Come al solito accade Per gli artisti in genere E devo dire che loro hanno ottenuto il palco C'è stato un ottimo coordinamento Un'ottima strategia del palcoscenico, dello show Però tutto questo è di peso da loro Chi presentava la serata? Abbiamo ottenuto per la data di Santo Spirito Due conduttori della radio, bravissimi Giuliano Giuliani e Antonello Loiacono Che conducono un programma il pomeriggio Per la data di Torriammare e Zaba Che è un noto presentatore a livello nazionale RAI Che conduce otto volanti su Radio 2 E adesso in fiera Adesso in fiera Data finale La fiera è stata scelta per dimostrare Appunto E per poter dimostrare A fiera d'Elevante Significa avere un contenitore immenso E di fatti la data finale Il 19 di settembre Lo showvero parte alle 20 Ma noi saremo lì dalle 17 Perché presentiamo a piccoli frammenti Tutti gli artisti Anche perché la gente che entra in fiera Non solo verrà per il tour di Radio Bari Ma viene per la fiera d'Elevante Per cui visiterà i padiglioni I vari stand E a piccole dosi faremo vedere Quello che sarà appunto in anticipazione Quello che sarà il mega show della serata Che partirà appunto alle 21 Dalle 21 alle 24 Sirete presenti alla fiera anche con la Maldarizzi Motors Che cosa avete preparato? Sì, noi siamo Abbiamo uno spazio dentro il gruppo Maldarizzi Che è il padiglione 85 Dove esisteva già un palco Verrà poi integrato Da quello che è lo show finale di Radio Bari Con luci, video Tutto quello che serve Per far esibire appunto Le varie band Perché nella serata finale Abbiamo tre band Ci portiamo quello che ci ha seguito per il tour I grandi ospiti Che saranno Liu Duca Che sono anche intervenuti a Torre a Mare Però poi avremo L'Ia di Capongo Che è una band Nata qui a Bari Ma vivono a Roma E poi Girano per tutta l'Italia E non solo Ed è una band Abbastanza nota È una cover band Dove richiamano tutti i pezzi Degli anni 70 Nell'era della dance Vanno dalle chic Alle sisters Sleggia Quello in the gang Delegation Metteranno tutti a ballare Più volte li ho visto Assistito A delle scene incredibili Bene Quindi Abbiamo detto tutto Quel che si doveva dire Tranne Il fatto che Ancora non si è svelato Il motivo del 33 Caspita è vero In realtà 33 nasce per caso Poi inizio a fare il DJ Quale nome è più appropriato Però c'è un aneddoto Dovrei raccontare E sono passati così tanti anni Che un giorno Ho parlato con una mia amica Che parlava con la sua amica E diceva Il mio amico Pasquale 33 Come mai Pasquale 33? Perché è legato ai 33 giri Che cosa sono i 33 giri? Per cui siamo E abbiamo pensato appunto In fiera Di chiudere Nella Nella Baradan totale Di creare un set Perché poi c'è Questa storia del 33 giri Che bisogna farlo vedere Ai giovani Evidentemente Non riescono ad associare Il 33 Che magari viene definito Come numero A long plane E ti dicono Ma che cos'è il long plane? Per cui faremo Una dimostrazione Dell'evoluzione Della tecnologia Mixando Tra il 33 giri Messo su un giradischi Con il pick up La puntina Con l'iPad Che è questo nuovo apparecchio Appunto Di Di iTunes Di Mac Dove esiste Questa applicazione Che permette Di poter mixare Per cui ci sarà Una telecamera Che riprenderà Le due console Manderà sui video Il vecchio giradischi Con un vecchio DJ E un DJ Emergente Che mixerà Con l'iPad Hai mai pensato Di trasformare Il tuo attuale 33 Con un più moderno MP3? Ma più volte Hanno tentato Di cambiarmi anche il nome Da Pasquale 33 Pasquale MP Pasquale CD Poi Pasquale MP3 Poi MP4 Un cassino di numeri Sono tornato a 33 Bene Allora Torniamo ad invitare I nostri telespettatori Al tour di Radio Bari Allora Il 19 settembre Noi saremo lì Dalle 17 Nel padiglione 85 Presso il gruppo Maldarizzi Ma il tutto A piccoli frammenti Iniziamo giovedì Presentando tutti i DJ Di Radio Bari E tutti i conduttori Con alcuni ospiti Che anticiperanno Appunto Il grande evento Del 19 settembre Alle ore 20 Bene Detto ciò Ascoltate Radio Bari Su 88.8 Perché io me la sento Tu te la senti Signore e signori Benvenuti In Piazza della Torre Sta per cominciare Un'altra tappa Del tour di Radio Bari In Piazza della Torre 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 In Piazza della Torre